Una forma verbale, sicuramente molto utile in latino, è rappresentata dal participio perfetto, cioè dall'equivalente di quello che in italiano chiamiamo il participio passato. Oggi, nella pillola di latino odierna, risponderemo ad una semplice domanda. Come si forma, in latino, il participio perfetto di un verbo? Rispondiamo con quattro semplici passaggi. Eccoli a voi. In primo luogo, dobbiamo cercare il paradigma del verbo che ci interessa sul vocabolario di latino. Facciamo un esempio molto semplice. Prendiamo un verbo della prima coniugazione, cioè il verbo laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Abbiamo letto assieme il suo paradigma. A questo punto, punto numero due, prendiamo in considerazione soltanto la quarta forma del paradigma, cioè la penultima forma del paradigma stesso. In questo caso sarà laudatum. Di che cosa si tratta? Si tratta del supino attivo, un particolare modo verbale attivo del latino. In questo caso, la forma, ripeto, è laudatum. Punto numero tre. A questo punto, a laudatum, togliamo la desinenza um. Otterremo semplicemente laudat. Che cos'è? È il cosiddetto tema del supino. Ed è proprio la forma base per costruire insieme il participio perfetto del nostro verbo latino. A questo punto, basta fare un quarto ed ultimo passaggio. Cioè, al tema del supino, in questo caso a laudat, aggiungiamo le semplici desinenze us per il maschile, a per il femminile, e um per il neutro. Costruiremo così la forma base, il nominativo singolare, del nostro participio perfetto, che in questo caso sarà laudatus, laudata, laudatum, che corrisponde in italiano al nostro lodato oppure lodata. Come vedete, non è difficile. Cerchiamo il paradigma sul vocabolario, prendiamo in considerazione la quarta forma, cioè il supino attivo, togliamo la desinenza um per ottenere il tema del supino, e a quest'ultima aggiungiamo le desinenze us a um. Ed ecco pronto il nostro participio perfetto. Un paio di precisazioni conclusive. Innanzitutto diciamo che in latino il participio perfetto si declina come un aggettivo della prima classe. Guardate l'esempio. Laudatus, laudata, laudatum. Questo è il nominativo singolare. Immaginate che sia un aggettivo come altus, alta, altum, oppure come bonus, bona, bonum. La modalità di declinazione sarà assolutamente la stessa. Una seconda ed ultima precisazione, però importantissima, da memorizzare molto bene. In latino il participio perfetto ha sempre valore passivo, dunque ha tutti gli effetti una forma verbale passiva. Come avete visto, nulla di particolarmente difficile. Dovremmo aver capito come si costruisce in latino il participio perfetto. I suoi usi, come ovvio, li studieremo un po' più in là nel tempo. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci ai miei prossimi video.